Sì, queste due inchieste di cui ho parlato nella conferenza stampa dimostrano che è necessario tenere molto alta l'attenzione, perché dimostrano che alcuni ambienti criminali del Basso Molise, in particolare della zona dei Termoli, hanno contatti per la materia del traffico di stupefacenti sia con zone del nord Italia, in particolare del Milanese, sia con esponenti della criminalità del Foggiano e sia anche, però verosimilmente, direttamente con l'Albania, da cui si importa, o comunque dai paesi dell'est, da cui si importa la sostanza stupefacente. Non solo, sono stati sequestrati e i capi di imputazione si riferiscono a vari tipi di sostanza stupefacente, marijuana, hashish e cocaina. Oltre agli arresti di oggi, ci sono stati nel corso delle indagini una serie di arresti, a farsi casuali, ma in realtà erano frutto delle intercettazioni che avevamo in corso, che hanno riguardato anche grossi quantitativi di sostanze stupefacenti. Da ultimo, nel 2015, con circa mezzo chilo di cocaina interno.